Buongiorno dal Regno Unito. Grazie per essere venuti tutti oggi e spero che stiate tutti bene e al sicuro. Mi chiamo Amanda Stretton e sono felicissima di dare a tutti il benvenuto per ascoltare la storia del futuro di Jaguar Land Rover. Tra qualche minuto passerò parola all'amministratore delegato di Jaguar Land Rover Terry Bolloré che ci farà l'annuncio di oggi ma prima di cominciare vi annuncio che saremo tutti in muto e termineremo tra una ventina di minuti. Cominciamo. Grazie a tutti. Un benvenuto a tutti. È davvero un piacere per me essere qui di fronte a voi nel mio ruolo di amministratore delegato di Jaguar Land Rover dal cuore della nostra azienda qui a Gaydon nel Regno Unito. Mi rendo conto che è stato un anno difficile per tutti noi, per le nostre famiglie, per il settore e per l'economia. Nonostante questo abbiamo anche visto grande testimonianza di resilienza, di energia, dello spirito dei nostri nel gestire queste avversità senza precedenti. Volevo ringraziare tutti voi personalmente. Ma adesso è arrivato il momento di pensare al futuro, alla nostra responsabilità. Siamo sempre stati all'avanguardia delle tecnologie, del design, nei veicoli di lusso e vogliamo continuare lungo questa strada. Oggi è il momento di rimaginare il prossimo capitolo di cui è stato. Per questa azienda unica è per le due uniche marche che rappresenta Jaguar e Land Rover. Sono dei marchi britannici che vantano una fitta trama di design senza tempo, che hanno una risonanza con tutti, ci lasciano sempre con un sorriso ogni volta che li guardiamo. Sono dei marchi che creano un attaccamento emotivo, un'intimità che è veramente unica sull'arena globale. Basta fare un giro per la nostra struttura Classic Works di Jaguar Land Rover per vedere e sentire quanto è viva la nostra storia. Come membro orgoglioso dell'ecosistema Tata, con la sua forza industriale e la sua posizione nel mondo, siamo qualcosa di veramente unico qui a Jaguar Land Rover, veramente unica nell'industria automotive. E adesso è il momento di portare a piena fruizione il suo potenziale. Insieme con il nostro personale pieno di talento qui nel Regno Unito, in Slovacchia, in Cina, in tutto il mondo, abbiamo tutti gli ingredienti a nostra disposizione per rimmaginare l'azienda, per fare esperienza e per fare portare ai nostri clienti l'esperienza che cercano, rimmaginare lo standard del lusso, portare avanti un'azienda sostenibile e di qualità, sia come Jaguar che come Land Rover. Abbiamo tutti gli ingredienti per definire che cosa significa il lusso moderno nel mondo di domani. E quindi oggi sono fiero di lanciare la nostra strategia Reimagine, una strategia che ci vedrà rimmaginare il futuro del lusso moderno attraverso il design, attraverso i nostri due marchi britannici e distinti, per dare più di una soddisfazione ai nostri clienti, in un mondo in cui la vera sostenibilità ci permetterà di definire il lusso responsabile moderno. Insieme porteremo avanti il nuovo standard in termini ambientali, di società e di comunità per un impatto sul ramo di lusso del nostro settore. A sostegno di questo lusso ci sarà la convenienza senza sforzo garantita dai nostri servizi connessi, dalle nostre capacità di software nei nostri veicoli, delle nostre tecnologie basate sui dati e una digitalizzazione radicale di tutto il viaggio dei clienti e dell'esperienza di possesso. Per farlo Jaguar Land Rover diventerà più agile, legittimerà i suoi che lavorano da noi e si fiderà di loro per cambiare le regole del gioco con un chiaro obiettivo. Come azienda saremo focalizzati sulla creazione del valore, consegneremo qualità e profitto più che volume. La nostra visione è molto chiara, diventare i creatori dei veicoli di lusso più desiderabili e dei servizi per i più attenti nei nostri clienti. Infatti la nostra struttura, i nostri investimenti, la nostra cultura, il nostro punto focale sarà andare oltre la mera soddisfazione dei clienti in ogni passo del loro viaggio molto personale. Al cuore di Reimagine ci sarà l'elettrificazione sia di Jaguar che di Land Rover come marchi. Questo passaggio all'elettricità veramente ci entusiasma. La serenità, la calma, la scurrevolezza del movimento, la comodità del viaggio sono tutti i modi in cui esprimiamo il lusso nei nostri veicoli oggi. La purezza dell'elettrico è il prossimo passo naturale. Amplifica quelle esperienze sensoriali, incarna tutto quello che un veicolo moderno di lusso dovrebbe essere. Ci permette di giocare con i materiali, con la luce, con le forme, con gli odori per dare spunto alle emozioni fisiche e visive dei nostri prodotti. Il lusso è pulito. Dobbiamo costruire su architetture separate. Jaguar e Land Rover avranno due chiare personalità distinte. Personalità che sono radicate nelle loro storie emotivamente ricche e che sono progettate per darci due scelte distinte di lusso moderno per i nostri clienti. Land Rover continuerà ad essere il curatore dei veicoli SUV più capaci del loro settore, associando design di fama mondiale con una solida ingegnerizzazione in tecnologie innovative. Consegnerà lusso moderno attraverso le tre famiglie, Land Rover, che offre una raffinatezza senza uguali per i leader del mondo, la Discovery, con una versatilità di tutti i giorni per le famiglie moderne, e Defender, con un senso di avventura che non può essere fermata per gli esploratori del ventunesimo secolo. Nei prossimi cinque anni il Land Rover darà il benvenuto a sei versioni tutte elettriche. La prima arriverà nel 2024. Durante la stessa linea temporale, Jaguar avrà attraversato un rinascimento completo e emergerà come un marchio di lusso elettrico. Una gamma veramente meravigliosa di design coinvolgenti dal punto di vista emotivo associati a delle tecniche pionieristiche che ci permetteranno di rimmaginare il marchio Jaguar completamente per creare una nuova posizione unica nel mercato, che ci permette di fruire del potenziale unico non solo per i nostri clienti, ma per tutta l'azienda. Vi posso già dire che è iniziato questo viaggio. Vi dico anche che l'eccitazione della scrittura del prossimo capitolo nella storia di tale marchio così potente è di grande ispirazione. È un aspetto che arriverà e che attendiamo tutti con ansia e so che piacerà anche a voi. Naturalmente come parte di questo viaggio dobbiamo fare delle scelte che preservano la purezza e la personalità della elettrificazione della prossima generazione in termini di tecnologia che stiamo sviluppando. Quindi anche se il modello rimarrà, la sostituzione precedentemente pianificata dell'ex-J non formerà parte del nuovo portfolio, della nuova gamma focalizzata. Rimagine vedrà la transizione verso un'azienda che è prima di tutto elettrica. Alla fine del decennio avremo raggiunto questo obiettivo. Modello per modello. Ogni modello sarà disponibile con piena potenza di batteria elettrica. In questo momento, in aggiunta delle vendite al 100% di Jaguar, il 60% di Land Rover sarà venduto con propulsione a zero emissioni. E vogliamo anche eliminare il diesel a partire dal 2026 con zero emissioni nella propulsione entro il 2036. Ma non ci limiteremo soltanto al puro elettrico, poiché aumenta anche l'economia basata sull'idrogeno e una decarbonizzazione di tutto il settore è in atto. Naturalmente la pila combustibile è un passo complementare essenziale. Per prepararci all'adozione aspettata di questa forma naturale di energia nel futuro, cominceremo con fare delle prove dei muletti qui nel Regno Unito quest'anno. La nostra strada verso l'elettrificazione contribuirà al nostro obiettivo di diventare a emissioni zero entro il 2039. Per accelerare la nostra strada verso questa data, la sostenibilità sarà il cuore di tutto quello che facciamo. Materialità, ingegnerizzazione, produzione, filiera, investimenti nella ricerca e sviluppo e servizi. Una squadra globalmente che lavora in tutti i canali di azione, tutti i punti focali della nostra azienda, tutti i marchi e l'esperienza clienti che fanno capo a me. Insieme rimmagineremo un lusso responsabile e sostenibile. Naturalmente è importante progettare il vero e proprio ecosistema. Lo facciamo, già abbiamo molti migliaia di ingegneri del software che lavorano qui nel Regno Unito, in Irlanda e in Cina. Oggi rappresentano uno su quattro la nostra squadra ingegneristica. Questo numero crescerà. Eppure far parte del Tata Group è un enorme vantaggio. L'azienda Madra non ha paura di intraprendere passi forti nel senso del coraggio, particolarmente per raggiungere e per allinearci alla sua missione, alla sua strategia. Abbiamo così tanti ingredienti già dal nostro interno. È un'opportunità unica. Si tratta anche di fare partenariato con dei leader di settore, dove gli altri devono basarsi soltanto su partnership esteriori. Noi abbiamo accesso naturale ad alcuni degli attori principali nell'energia, nella tecnologia, nella comunicazione e nel software. Delle aziende tecnologiche con una capitalizzazione di mercato di più di 100 miliardi di dollari e la responsabilità del 25% di tutto il traffico internet è tantissimo ancora. Il potenziale è incredibile. Il nostro potenziale è incredibile. Tradotto, questo significa che ci imbarcheremo in un programma che fa un salto in avanti a pie pari, bruciando le tappe. Continueremo a nutrire le nostre partnership in tutto il mondo, con le università, con le istituzioni accademiche, con le iniziative di innovazione e con il governo britannico. Continueremo ad investire in sistemi advanced driver system e sviluppare i giusti partenariati per andare verso il livello più alto di autonomia, tutto per aumentare l'esperienza di questo viaggio. Insieme come parte dell'impegno annuale di 2,5 miliardi di sterline in investimenti smart, rimmagineremo Jaguar Land Rover come un leader nel mondo prima di tutto sostenibile e orgogliosamente di lusso, un leader di tecnologia. Sotto questa nuova trasformazione digitale porteremo nuove esperienze, nuovi livelli di intimità nei nostri servizi automotivi, a nostri clienti e alcuni ancora inimmaginabili. Questo ecosistema imprenditoriale innovativo è già in preparazione grazie alla nostra squadra InMotion. Lo studio 107 giocherà un ruolo significativo a mano a mano che creiamo, pilotiamo e scaliamo nuovi servizi di mobilità ex novo. Sono servizi che il modello di abbonamento Pivotal nel Regno Unito ha visto già raggiungere il 750% di crescita durante l'esercizio fiscale. Si tratta di un caso d'uso provato, redditizio e in crescita. Pivotal ora verrà esteso nei nuovi mercati e questo è un futuro entusiasmante. Dal punto di vista della produzione, la visione è molto semplice. Il design è quello di creare nuovi standard nei veicoli per in termini di efficienza e del settore di lusso. La nostra strategia di architettura è il componente centrale a mano a mano che progrediamo verso i cicli di produzione e alla transizione verso l'elettrico e prima la batteria. Per arrivarci ci saranno tre architetture. Ci sarà una dedicata a Land Rover, una piattaforma BEV che è esclusiva alla Jaguar. Questo approccio sostiene la nostra strategia nel fornire al cliente delle personalità molto diverse. La prima ad apparire sarà la nuova plattaforma MLA Flex di Land Rover. Porterà una dei motori a combustione interna elettrificati all'inizio ma poi piena capacità elettrica a mano a mano che evolviamo il nostro prodotto, la nostra linea, durante i prossimi cinque anni e oltre. associandosi all'MLA ci sarà la nuova architettura nativa BEV che si chiama EMA, Electric Modular Architecture, una piattaforma che susterrà anche il motore a combustione interna di ultima generazione pienamente elettrificata. Per andare in piena transizione ad essere un produttore di motore a combustione interna a una battery first, avremo bisogno anche di immaginare tutta la nostra operatività di produzione e le nostre filiere con un'attenzione alla creazione di valore riusciremo ad avere la forma giusta, la ponderanza giusta a riorganizzarci e a ristrutturarci. La semplificazione è essenziale. Dal punto di vista della produzione riusciremo a mantenere la nostra operatività principale e in tutto il mondo, riorganizzandoci razionalizzeremo la nostra catena di fornitura. Questo ci permetterà anche di accelerare gli investimenti in delle filiere a economia circolare e in modo che sia in linea con i nostri obiettivi, le nostre ambizioni di sostenibilità. Più dettaglio seguirà poi in seguito con il prodotto, il ciclo di vita del prodotto. Posso confermare che oltre a essere i produttori dell'architettura MLA a Solihal ci sarà anche la casa della piattaforma BEV della Jaguar. Hairwood sarà la destinazione per la nuova architettura EMA e sosterremo il nostro beneficio dal punto di vista dell'impronta in Slovacchia e in Cigna che sono già molto molto efficienti e sono riconosciuti da JD Power. Quindi cosa succede a Castle Bromwich? Beh, prima continueremo la produzione dei nostri modelli fino alla fine del loro ciclo di vita poi in parallelo stiamo esplorando l'opportunità di ristrutturare, riconfigurare questo stabilimento che darà, troverà beneficio in termini di consolidazione della nostra impronta operativa che al momento è diffusa nelle midlands del Regno Unito. Insieme creeremo delle soluzioni sartoriali, la personalizzazione dei veicoli nella Special Vehicle Operations per continuare ad offrire un'esperienza veramente personalizzata per la clientela di entrambi i marchi. Naturalmente il viaggio verso l'elettrificazione dei nostri due marchi richiede una chiara visione della nostra posizione nella nuova catena del valore di queste tecnologie. Negli ultimi 12 mesi abbiamo affrontato l'impatto economico di Covid in aggiunta a eventi contrari di un cambiamento accelerato nel tutto il settore anche da Brexit. Eppure, come mostrano i nostri risultati finanziari, l'evidenza chiaramente punta a una forte azienda soggiacente grazie al nostro patrimonio di marca nei mercati esistenti in Cina e prodotti fantastici come la nuova Defender Land Rover. Consolidare e espandere queste iniziative di risparmio di liquidità che abbiamo visto abbiamo recentemente lanciato una trasformazione a piena scala che si chiama Refocus. Questo è il meccanismo di esecuzione eccellente e in velocità che fa parte di Reimagini, una cultura collaborativa che è importantissima a mano a mano, che attraversiamo i cambiamenti che sono di fronte a noi e manteniamo la nostra forza inerziale. Ma vi assicuro, Refocus è il nostro lavoro quotidiano, è la nostra nuova mentalità. In molti modi siamo aiutati dalla nostra misura, dal nostro peso. Siamo un'azienda con l'essere umano al centro, in molti modi a misura umana tra i giganti. Questo è un vantaggio e adesso dobbiamo approfittarne. Lo utilizzeremo per andare più veloci, lo utilizzeremo per essere più rigorosi e più disciplinati, lo utilizzeremo per comportarci e consegnare come un'azienda di tecnologia, non soltanto dire che lo siamo, ma farlo. Siamo focalizzati sul cliente, siamo ossessionati nel consegnare in maniera cosciente e flessibile. Questa efficienza nella messa a fuoco ci vedrà intraprendere un viaggio di adattamento permanente che trae beneficio dalle significative efficienze della nostra forza lavoro responsabile che consegna in velocità e con chiarezza di intenti, riducendo tutti gli strati gestionali e burocratici dell'azienda. Un'azienda di forma più agile che ci dà la struttura di cui abbiamo bisogno nel mondo di domani. Il sistema nervoso centrale di questa nuova struttura sarà una trasformazione digitale radicale. I dati saranno la spina dorsale dei nuovi prodotti, il ciclo di vita dei prodotti esistenti, la qualità della nostra produzione, l'ossigeno della nostra filiera, dei servizi del supporto che forniamo e potremo fornire ancora ai nostri clienti in futuro. Infine ci sarà una razionalizzazione della nostra infrastruttura non produttiva in termini di impronta nel Regno Unito e per aiutare senza strapi la nostra collaborazione agile e il nostro processo decisionale. Il centro Advanced Product Creation a Gayton nel Warwickshire sarà il simbolo di questo sforzo, il cuore del reattore della nostra azienda. Sempre più squadre si trasferiranno verso questo luogo centrale. La squadra esecutiva e anche io stesso siamo già lì. Per portare tutti questi ingredienti insieme siamo verso un itinerario di margine EBIT a doppia cifra con un flusso di cassa positivo, con l'ambizione di arrivare ad un bilancio di segno positivo al netto del debito entro il 2025. Alla fine vogliamo essere uno dei più redditizi produttori di lusso nel mondo. Signore e signori, rimagine la nostra chiara strategia. Vi assicuro, adesso ci sarà una serie di sprint successivi e andremo avanti. Abbiamo disegnato la mappa che ci dà una chiara direzione per l'azienda e per i nostri due marchi. Diventeremo sempre più agili con una struttura operativa semplificata. Un'azienda che guarda i suoi partner, incluso all'interno del gruppo Tata, per balzare in avanti nelle nostre ambizioni di sostenibilità, nella tecnologia, nei servizi connessi alla digitalizzazione per i nostri clienti. Insieme possiamo rimmaginare Jaguar come un marchio di lusso puramente elettrico, con una nuova gamma di design emotivi e meravigliosamente progettati e tecnologie della prossima generazione. Rafforzeremo la leadership mondiale di Land Rover con il segmento SUV di lusso e la purezza dell'elettrificazione. Due marchi, due distinte personalità, entrambe connesse dagli elementi di qualità e sostenibilità che sostengono il futuro di Jaguar Land Rover in termini di lusso già nel progetto. Questa è la nostra strategia. Reimmagine. Grazie. Che futuro incredibilmente entusiasmante per la nuova Jaguar Land Rover. Grazie Thierry e grazie a voi tutti in tutto il mondo per aver guardato. Per più informazioni di quello che avete ascoltato oggi andate a jaguarlandrover.com. State in salute e al sicuro. Grazie, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.